buonasera ragazzi perché oggi è il 7 di marzo e niente praticamente volevo spiegarvi una cosa che mi è successa 15 giorni fa 20 giorni fa ho acquistato su amazon aspettate mi sistemo e arrivo allora ce la faccio buonasera a tutti cioè ok allora praticamente che ho fatto ho preso come dicevo prima i filtri tre filtri aria del t max di cui uno va lì uno va qui qua va quello rotondo ok poi c'è un altro filtro che praticamente è dovrebbe essere allora c'è loro mi hanno mandato questo lo vedete come dietro ok ok io ho provato a metterlo ma niente non ci stava non andava anche se sembra molto simile ma non va io parlo dei t max dal 2008 al 2011 praticamente questo questo filtro non ci va lo vedete sembra molto simile vedete questa qui questo la parte posteriore vi faccio vedere la parte posteriore di questa vedete questo va questo qua è quello che monta sul t max dal 2008 al 2011 anche il bocchettone sembra molto simile vedete questo qua è quello giusto quello sbagliato che adesso non so in quale t max va l'attacco questo qui è troppo grosso perciò quando voi andate a montarlo fate fatica se non è quello giusto perché questo qui è più piccolo di poco ma quel poco per farlo stare anche perché una volta che voi lo mettete che praticamente questo qua va messo così no così va messo così non ci sta e non ci sta ragazzi cioè l'ho provato io poi ho chiamato il il fornitore di dove l'ho preso su amazon è stato gentilissimo me l'ha cambiato senza nessun problema anche perché questo non ci stava faccio adesso io ve lo metto uno a fianco all'altra così voi vedete con i vostri occhi della telecamera quello sbagliato è quello giusto vedete questo qui è quello giusto e questo è quello sbagliato questo è quello sbagliato io parlo ti max 2008 2011 questo è quello giusto questo qua monta poi ricordatevi di togliere ci sono degli anelli in ferro sul filtro vecchio toglieteli e dovrebbero starci qua e anche la graffetta per avvitarla poi sulla canena perché poi montandolo qua c'è una graffetta dove viene avvitato il tutto e niente spero di essere stato utile da questo panorama dove non c'è niente e dal t max che dire buona stagione a tutti e alla prossima ciao